Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di GTA 5 Online In questo video ragazzi non parleremo di glitch ma sono qui per annunciarvi l'ufficialità del nuovo DLC di GTA Online Che uscirà il 15 dicembre Ragazzi per nuove news come queste vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina E ora vi mostro subito il trailer che è stato rilasciato da Rockstar mezz'ora fa Allora come potete vedere ragazzi ci saranno nuovissimi paesaggi Quindi questa è la nuova mappa, il nuovo pezzo di mappa che uscirà Abbiamo nuovi accampamenti, nuovi veicoli soprattutto che dopo vi mostrerò dettagliatamente Sembrano essere appunto veicoli di guerra come potete vedere E il nuovo DLC si chiama Decaio Perico Ace Quindi dovremo andare a vedere poi in seguito meglio più dettagliatamente Come potete vedere ragazzi questi sono i nuovi pezzi di mappa che vi mostro Vi volevo anche dire che sarò in live il 15 dicembre proprio per annunciare questo nuovo DLC Quindi vi aspetto tutti quanti in live mi raccomando attivate la campanellina A fianco al tasto iscriviti per non perdervi tutte le notifiche E lasciate un like al video se vi è stato utile Comunque come potete vedere vi mostro ora i veicoli in maniera dettagliata Possiamo vedere che saranno utilizzati sicuramente di più i fiumi Che saranno presenti nel nuovo pezzo di mappa quasi sicuramente Ecco qui i nuovi veicoli da guerra Come potete vedere abbiamo vari furgoni specialmente Quindi vedremo sicuramente ci sarà qualcosa di più carino di questi tre che abbiamo appena visto Ma comunque ragazzi tanta roba Tanta roba sicuramente una nuova città davvero particolare Possiamo vedere anche questi interni di questa nuova casa Che ora ragazzi apparirà Vi li mostro subito Ecco qui vedete Bello ragazzi la grafica Tutto il design è stato fatto per bene dalla Rockstar Che l'ha appena annunciato Come potete vedere anche appunto ci saranno sicuramente molto più missioni Che riguarderanno mare, fiume, robe varie Perché comunque come potete vedere è pieno di sottomarini Ora vi mostro anche qui nelle immagini Il nostro personaggio in questo caso ragazzi Credo che qui sia un colpo E qua abbiamo il nostro gigante sottomarino Vedremo vedremo ragazzi Volevo inoltre dirvi che oltre a questo sottomarino armato Troveremo nuove armi che saranno rilasciate nel gioco E l'aggiornamento sarà disponibile per Playstation 4, PS5, Xbox e ovviamente PC Quindi tutte le varie piattaforme Ci sarà questo aggiornamento Che ci permetterà di fare nuovi colpi Che sicuramente ragazzi ci faranno divertire tantissimo Quindi in live vi ricordo di entrare il 15 dicembre Ci sarò sicuramente con tutti voi Quindi se entrate faremo magari Vedremo Compro tutte le cose nuove che usciranno del DLC Perché ormai i soldi ce li ho Quindi posso prendermi tutto quello che uscirà Quindi dovrete esserci tutti quanti Signore e signori Io vi ricordo di iscrivervi al canale E attivare la campanellina Noi ci vediamo il 15 dicembre in live Bella ragazzi Noi ci vediamo il 15 dicembre in live Noi ci vediamo il 15 dicembre in live